C'erano state diverse polemiche nei giorni scorsi, ma dopo il suo intervento finalmente i medici del 118 tornano nelle postazioni estive d'emergenza. Sì, nel mio intervento ci siamo prodigati tutta l'altra direzione aziendale, abbiamo fatto una riunione lunedì coinvolgendo il 118 e la struttura della medicina territoriale per dare una soluzione alla problematica, siamo riusciti a farlo in brevissimo tempo, è ovvio che avevamo le mie legate, non potevamo che addivenire alle richieste facendo un progetto ben definito per risolvere la controversia problematica con questi medici e per evitare di lasciare scoperta della popolazione della costa in questi giorni proprio di calca, per questo periodo abbiamo ripotenziato tutte le strutture territoriali della costa per l'emergenza e è finito tutto, da domani riprenderanno in servizio regolarmente. Quindi correre ai ripari all'ultimo minuto non è stata una cosa? Non è stata una cosa perché si pensava di fare come gli altri anni ricorrendo all'esordinario, loro non l'hanno accettato, quest'anno è andata così, per il prossimo anno ci penseremo molto prima.